Sono 4.800 i dipendenti della Regione Veneto e costano 200 milioni di euro l'anno. Poi ci sono i consiglieri, gli amministratori con le loro indennità, i consulenti e costano altri 300 milioni di euro, in tutto mezzo miliardo. Luca Zai ha presentato il rapporto sui costi dell'ente pubblico più esteso nel Veneto al Consiglio regionale e ha accluso i criteri che il Parlamento della Regione dovrà seguire per la riorganizzazione delle norme macchine amministrative. Tanto per cominciare basta con i doppioni, poi stop agli enti che non sono funzionali all'attività amministrativa e un taglio anche alle spese che potevano essere evitate. Fino a qui niente di straordinario, semmai sorprende che non si sia pensato prima a spazzare via enti e spese inutili. Ciò che invece appare innovativo è l'indicazione data da Zai di ridurre gli oneri, ricorrere a fusioni e ad accorpamenti. Qualcosa è già stato fatto, ad esempio la Scuola regionale Veneta per la sicurezza e la polizia locale è stata commissariata. E per la cura dimagrante di Veneto agricoltura è già stato presentato un disegno di legge. E la sanità subirà una riorganizzazione che colpirà le ASL ma non in servizio agli utenti. Almeno così la Giunta regionale ha assicurato.